Ciao a tutti, sono Marco Antonio Pani, sono qui ospite del Teotere di Confine Film Festival con il mio corto Padenti, Foresta, felicissimo di essere qui questa volta col mio lavoro dopo due anni nei quali ho avuto l'onore e il piacere di fare il direttore artistico di questo festival, di questa rassegna. Il mio corto è un documentario che parla dell'estrazione del sughero nella foresta di Scalaplano, provincia di Cagliari una foresta particolare perché in questa foresta ho avuto l'occasione di raccontare una storia di economia di prossimità in cui gli abitanti del paese di Scalaplano riuniti sotto la guida di un'impresa di Scalaplano estraggono tutti insieme il sughero della foresta di Scalaplano. Una storia quindi di sostenibilità e anche una bella storia umana che spero che il pubblico gradirà.